Ciao amici di Fanta Paz, oggi un nuovo video con... parliamo di il Monza, come avete letto dal titolo, quindi piano piano completiamo tutte le 20 squadre, l'analisi tattica, come detto, secondo me è fondamentale per capire in che contesto vanno a giocare i giocatori, i nostri giocatori, i nostri fantagiocatori che vogliamo prendere alla prossima asta, e Nesta, Nesta è un grandissimo difensore, come allenatore ancora non ha fatto, anche perché arrivare al livello di come era da calciatore è sicuramente difficile, però insomma, prima esperienza in Serie A, Galliani l'ha portato al Monza, è interessante come mossa, sia una mossa marcord, nel senso che comunque Galliani e Nesta nel Milan di Galliani e di Berlusconi hanno fatto benissimo, oltre che naturalmente prima è la Lazio, però forse non fosse stato lui, nel senso la sua sua status da calciatore non sarebbe arrivato al Monza per i risultati, perché comunque lui ha allenato in Serie B, ha allenato prima della Reggiana, ha allenato il Frosinone, facendo risultati abbastanza nella media, con la Reggiana non ha fatto malissimo, ecco diciamo la Reggiana aveva, poi ne parliamo alla fine, aveva dei problemi soprattutto sui calci piazzati, secondo me, però come sapete il format è parlare prima della squadra, poi andiamo nella lavagna tattica e poi calci piazzati, quindi non vi anticipo, diciamo, lui si è giocato anche a 4, però tanto ha fatto il 3-5-2, nell'ultimo anno alla Reggiana un 3-4-2-1, dove spesso aveva due giocatori comunque di, sì, anche di forza fisica di gamba, però aveva anche il, quasi addirittura due registri, comunque due giocatori che hanno piedi buoni, insomma c'era bianco, che io non escluderei che possa arrivare al momento della Fiorentina, quindi, però non escluderei che possa arrivare al Monza, possa essere un nome da Monza, anche perché poi proprio da Monza a Firenze è andato Palladino, che poi ne parleremo in un altro video, quando parleremo della Fiorentina, e quindi, secondo me, non lo vedrebbe male riavere bianco dalla Reggiana, perché comunque è stato, al di là delle tantissime munizioni, è stato un centrocampista che ha fatto molto bene, secondo me è uno dei migliori, da quel punto di vista, inserrebbe, e chiaramente deve diventare meno falloso, ma insomma, questo ne parleremo, quando parleremo magari di bianco, e nella Fiorentina, se andremo in un'altra squadra. Quindi, come ho detto, 3-4-2-1, 3-5-2, con due trequartisti che in fase di non possesso vanno molto in avanti, quindi lui comunque è un tecnico che, diciamo, vuole che la squadra che aggredisca abbastanza, vuole portare spesso la squadra avversaria sul lato, sulle fasce, spesso sul lato sinistro, ma comunque anche sul lato destro, e in quel momento, uno dei due centrocampisti va in appoggio, e si libera anche un braccetto di, dalla parte, se sinistra a sinistra, se in destra a destra, ovviamente. E quindi, comunque, non vuole, vuole coprire le zone centrali, più che altro. Nonostante, appunto, a centrocampo non abbia dei mastini, gente comunque che picchia, anche se poi bianco ha avuto tante ammunizioni, ma non ha giocatori comunque che siano dedicati, dediti solo alla rottura del gioco, ma anche a costruire. Quindi, in realtà, se pensiamo due trequartisti, due giocatori del genere a centrocampo, i due esterni spesso sono due terzini, che infatti, in fase di non possesso, poi la difesa diventa, quando poi viene superata la prima pressione, la difesa diventa cinque, con la libertà dal lato dove si sta attaccando, dove sta attaccando l'avversario, comunque di rompere la linea, e quindi di lasciare, magari, i tre giocatori offensivi della squadra avversaria, quasi in uno contro uno, contro i tre centrali, con l'aiuto di uno dei due terzini, appunto, che scende comunque bene in fase difensiva. Quindi, diciamo, organizzazione difensiva abbastanza buona, secondo me. Offensivamente punta molto sul palleggio, ma anche sulle verticalizzazioni, perché comunque aveva giocatori veloci, come Gondo, lo stesso Girma, che è un trequartista comunque valido, poi ha giocato anche Vergara, Portanova, insomma, ha avuto dei giocatori comunque di qualità, di palleggio, quindi alla fine è una squadra che difficilmente aveva giocatori che non sapessero trattare bene la palla. Quindi questa è comunque l'idea spesso di Nesta, vediamo poi anche al Monza che tipo di giocatori gli verranno messi a disposizione. Perché, diciamo, lui comunque si basa molto su una buona organizzazione difensiva e cerca di fare gioco in avanti, con i terzini che comunque magari da un lato magari tende anche ad andare molto di più rispetto all'altro. Bisognerà vedere poi appunto chi resterà, perché al momento, anzi il Monza, le ultime partite con Paladino ha giocato a quattro, bisogna vedere se magari Bigindelli tornerà, su quel lato, c'è lo stesso Ciurria, vediamo se lo vuole rilanciare, Chiriacopoulos potrebbe essere un giocatore molto interessante secondo me, per Nesta, è vero che ve l'avevo detto anche l'anno scorso, che poi alla fine ha giocato una trentina di partite, però non ha giocato onestamente come io mi aspettavo e come vi avevo forse detto in alcuni video, appunto mi sarei aspettato rispetto al suo livello che ci aveva mostrato al Sassuolo e in parte anche al Bologna. Quindi comunque secondo me deve migliorare, la sua squadra difensiva può essere molto utile, offensivamente anche se c'è molta qualità, non sono convinto della bontà, infatti è una squadra che comunque aveva una grande solidità, ha fatto tanti pareggi proprio grazie a una buona solidità difensiva, segnava, non segnava sempre tantissimo e quindi secondo me deve migliorare da quel punto di vista, poi naturalmente dipenderà anche dal tipo di squadra, penso che resterà Diuric, penso che avremo di nuovo Caprari, Dani Mota, poi vediamo per Spessina, Colpani, vediamo chi altro arriverà, se tornerà Maldini, quindi ha dei giocatori di qualità, forse con giocatori ancora più di qualità rispetto a quelle che aveva la Reggiana, potrebbe anche fare qualcosa di meglio in attacco. Però insomma la prima base è la fase difensiva. Andiamo, si tuffiamo sulla lavagna tattica, facciamo qualche altro discorso appunto di questo tipo e poi torniamo per i calci piazzati. Eccoci nella lavagna tattica del Monza, più che sottolineare le differenze abbiamo parlato un po' di come giocava la squadra di Palladino, era una squadra che Palladino ha cambiato molto, in un anno e mezzo ha cambiato molto il suo stile di gioco, diciamo l'ultimo Palladino, l'ultimo Monza di Palladino era una squadra che si rifaceva molto a Diuric, si affidava molto a Diuric perché un giocatore che effettivamente ti condiziona perché lo devi servire con le palle alte, altrimenti palla a terra naturalmente fatica. Però insomma Diuric per il momento è l'attaccante titolare del Monza e questo secondo me potrebbe influenzare anche la scelta di Nesta che normalmente vuole sempre una... diciamo lui alla Reggiana aveva due terzini che facevano effettivamente tutta la fascia e qualche volta appunto, dipende dalla zona in cui attaccava l'avversario, quindi questo mi fa si dire un po' stesso, se la zona naturalmente attaccava sulla destra, lui il terzino destro, l'esterno destro rompeva la linea difensiva a 5 e andava e usciva magari con l'aiuto di un mediano, questo succede di spesso, diciamo che la Reggiana non era una squadra che ti veniva a prestare alta, quindi diciamo abbastanza in linea con quello che faceva il Monza perché il Monza non era l'ultimo Monza ma in realtà anche il Monza dell'anno scorso non è una squadra che ti presta tantissimo forse anche perché non aveva giocatori di quel tipo, sì, abbastanza dinamici ma non insomma dei giocatori che possono avere quelle caratteristiche di intensità pazzesca, di pressione che possono avere altre squadre, altri tipi di calciatori, quindi forse Paladino si è anche diciamo rifatto alle caratteristiche dei giocatori e neanche la Reggiana, neanche la Reggiana perché comunque giocava spesso con due trequartisti, Portanova, diciamo Gondo anche se poi Gondo era anche un centravanti, Vergara, insomma Girma, l'ottimo trequartista che tra l'altro facevamo anche un video short su di lui, quindi giocatori comunque di qualità ma non tanto di quantità che però comunque nella prima fase di non possesso riuscivano a dare una bella pressione, magari appunto l'idea di Nesta è quella di avere due trequartisti che siano in grado di dare una linea di prima pressione in questa zona, diciamo attorno al centrocampo e quindi cercare di andare a chiudere un po' gli avversari per cercare di spingerli dove vogliono, su una delle due fasce naturalmente. I due centrocampisti, spesso erano due centrocampisti comunque di Reggia, Cigarini, Bianco, giocatori comunque che sanno giocare alla palla e che non hanno forse caratteristiche anche loro da super difensive, quindi in realtà negli interpreti è una scuola abbastanza offensiva e mi aspetto che possa esserla anche al Monza, quindi mi aspetto diciamo Colpani e Mota, Caprari, Pessina nei centrocampisti, vediamo poi se arriverà un regista un vero regista perché in realtà il Monza da quando è andato via Rovella non ha più un vero regista in mezzo al campo, però appunto l'idea in fase di non possesso è quella che non pressione altissima però insomma i due trequartisti e l'attaccante dovevano chiudere per cercare di spingere gli avversari sulla fascia, una volta spostati sulla fascia diciamo il loro compito quasi terminava e l'altro uno dei due mediani, quindi quello un po' più vicino, andava comunque in aggressione assieme al terzino questa più o meno è l'idea di Nesta di portare appunto gli avversari su una delle due fasce in fase di possesso invece comunque si giocava, si utilizzavano comunque sempre le fasce, quindi gli esterni sono sempre importantissimi nel gioco di Nesta sia in fase difensiva che in fase offensiva e poi si passava appunto dal centro dove diciamo che c'erano appunto due calciatori comunque con buone qualità nel passaggio, passaggio corto nelle decisioni dei passaggi e spesso ci si affidava appunto o si lanciava verso gli esterni o si giocava il pallone magari con un trequartista che ritornava, arretrava a supporto del palleggio della squadra e in questi casi magari chi saliva, uno dei due trequartisti saliva, l'altro invece andava ad affiancare l'altra punta in avanti per cercare in questo modo di giostrare sugli esterni, magari andando anche appunto sull'altra fascia non tanto utilizzando i cross perché comunque la squadra appunto aveva degli attaccanti non fortissimi in questo fondamentale io credo che lo stesso tipo di gioco si possa arrivare magari avendo un giocatore come Kierakopoulos che secondo me ha fatto molto male l'anno scorso ma non solo secondo me però potrebbe rilanciarsi, Birindelli anche lui non è un cattivo crossatore vediamo se si potrebbe rilanciare Ciuria però insomma Ciuria sulla destra è un po' più complicato secondo me proprio per il lavoro in fase difensiva su cui Ciuria difettava e anche era un giocatore che maggiormente si accentrava mentre lui più che altro vuole proprio esterni esterni nel senso che partano proprio sulla fascia e avere qui in mezzo Djuric magari con un Kierakopoulos che scambia con Mota, con Caprari e poi crossare secondo me si giocherà molto sull'idea di darla a Djuric poi Djuric stesso o colpisce verso la porta o magari la fa da sponda per l'altro trequartista che arriva che potrebbe essere Colpani che insomma l'anno scorso ha fatto benissimo almeno soprattutto nella prima parte però poi alla fine ha concluso con una stagione veramente positiva quindi diciamo che credo che Nesta si adatterà su questo e che non potrà rinunciare a un giocatore come Djuric e quindi dovrà leggermente variare il suo gioco rispetto a quello che ha fatto che diciamo in parte forse l'ha fatto con il Frosinone quando aveva Novakovic che è un giocatore abbastanza simile a Djuric come struttura e come statura quindi diciamo vedremo Nesta più simile a quello che abbiamo visto al Frosinone che non a quello della Reggiana però diciamo i principi di gioco più o meno sono quelli attaccare molto sulla fascia e con Djuric secondo me non è una cattiva idea quindi torniamo in studio per i calci piazzati i calci piazzati della Reggiana erano abbastanza in linea subiva molto come abbiamo detto prima o meglio ho visto degli schemi in fase difensiva non bellissimi in alcune partite e non mi è piaciuto non è piaciuto neanche ai tifosi della Reggiana immagino quindi secondo me ha subito troppo ho visto sì è vero come ho sempre detto anche in altri video contano anche i giocatori però insomma su quelli a favore un po' la disposizione come istruisci i tuoi difensori o comunque la tua fase difensiva ma poi non riguarda soltanto i difensori anche normalmente figuriamoci nei calci piazzati dove tornano anche arretrano anche i centrocampisti e gli attaccanti lì secondo me ho visto qualche al di là dei numeri che non sono neanche così pessimi però ho visto tante volte anche quando non ha subito gol che era abbastanza semplice andare a colpire contro la Reggiana di testa come detto può essere causa dei calciatori a disposizione però secondo me lì Nesta può migliorare insomma se qualcuno glielo farà notare se magari vedrà questo video chissà ci farebbe molto piacere secondo me dovrebbe lavorare molto su quella parte lì perché comunque ha giocatori tosti, forti come Izzo, Pablo, Marie vediamo se torna qualcun altro se prenderanno qualche altro difensore c'è comunque sempre D'Ambrosio che ha un'esperienza decennale sulla parte offensiva abbastanza medio riusciva comunque a segnare lì magari era un po' più ampio di schemi ho visto comunque anche schemi interessanti che portavano a un calcio da fuori o cross sul secondo palo magari battere il corto per un cross sul secondo palo per aggirare un po' tutta la difesa quando magari c'era una linea difensiva molto ben fornita quindi dal punto di vista offensivo non male secondo me difensivamente deve migliorare dal punto di vista dei calci piazzati come detto parecchio perché appunto insomma senza che mi ripeto però subire tante reti diciamo che il Monza non è una squadra è una squadra che aveva già dei problemi da quel punto di vista e non so se Nesta li potrà migliorare o piuttosto peggiorarli quindi per quello dicevo che non che mi aspetto un bel lavoro da quel punto di vista oltre al fatto che c'è sicuramente il gioco però come ho detto tante volte il calcio piazzati ormai nel calcio moderno sono fondamentali quindi mi aspetto un miglioramento da quel punto di vista penso che Nesta ci debba lavorare spero che lo farà per lui e per il Monza quindi questa è la situazione calci piazzati del Monza abbiamo fatto l'analisi tattica e ci vediamo poi per un prossimo video naturalmente come sempre spero che vi sia piaciuto nel caso lasciate un like eventualmente l'iscrizione se non lo siete già e ci vediamo al prossimo video ciao ciao a tutti